Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi siamo finalmente arrivati al contest dei 200 iscritti vi ringrazio davvero tanto, siamo arrivati ai 200 iscritti in realtà già da due settimane infatti mi scuso se il contest è arrivato così in ritardo ma purtroppo, come ho già scritto nella descrizione dello scorso video sono stato sommerso dagli impegni andiamo dunque a vedere come partecipare al contest prima di andare con le regole mi ero dimenticato di dirvi che questo contest è in collaborazione con AssoK Il Negozio che quindi ringrazio davvero tanto e andiamo a vedere le regole allora la prima regola è quella di iscriversi al mio canale e a quello di AssoK Il Negozio ok, trovate i link qui, basta che cliccate e vi iscriverete automaticamente come sono brava poi la seconda regola è quella di lasciare un bel mi piace al video e la terza ed ultima regola è quella di commentare con scritto partecipo in realtà cosa ancora più importante per partecipare è quella di mandarmi un video di risposta ovviamente i video di risposta non esistono più quindi è stata introdotta la funzionalità di linkare il video nei commenti dunque farete un video con un vostro effetto magico a vostra scelta, qualsiasi performance e me la linkerete nei commenti qua sotto e io vi aggiungerò la lista quindi se voi entro un due o tre giorni vedete che non vi ho inseriti nella lista allora me lo dite perché magari mi sono dimenticato di mettere il vostro video una cosa che tengo a precisare sui video che verranno valutati secondo tre criteri principalmente, allora, seguirò l'originalità quindi se trovate una performance carina magari non copiata ma abbastanza originale è meglio poi la manualità e la qualità video e l'editing quindi cercate di fare un video anche abbastanza presentabile andiamo a vedere subito i premi i premi per questo contest sono a dir poco fantastici al primo posto abbiamo 10 euro prezzo ASSO K più 5 tutorial dal mio canale 5 tutorial dalla lista che trovate qui che comprende Reflex di Patrick Khan Inflict di Patrick Khan Centerpoint di Patrick Khan Transcode di Matthew Beach Jump di Matthew Beach Regeneration di Blake Vault e Click di Valdemar Gesto quindi 5 tutorial tra questa lista inoltre si porta a casa anche 5 tutorial dal canale l'ho già detto, sì e poi 30 minuti di hangout privato con il sottoscritto in cui potrà chiedermi qualsiasi cosa il secondo posto invece si porta a casa 4 tutorial sempre dalla lista più 4 tutorial dal canale e 20 minuti di hangout con me al terzo posto invece abbiamo 3 tutorial dalla lista 3 tutorial dal canale e 10 minuti di hangout con me il contest dunque si apre oggi 31 gennaio e si chiude esattamente tra un mese quindi il 31 febbraio e che ci avete creduto? il 31 febbraio non esiste ragazzi il contest si chiude il 1 marzo 2014 ok? si apre oggi 31 gennaio e chiude il 1 marzo 2014 se non si raggiunge un minimo di 20 partecipanti il contest verrà prolungato finché non si arriva appunto al numero dunque ragazzi non mi resta che augurarvi una buona fortuna fate dei bei video vi auguro quindi un bocca al lupo un bacione a tutti quanti e show per partecipare a questo contest dovrete seguire 3 semplici regole la prima regola è quella scusate dove sono finita? wow la regola ok allora le ho trovate perché me ne sono scritte perché sono smemorato ciao 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 I know you want it